Musica Ditemi chi è, quest'uomo sei tuffo In realtà può avere una potenza defragrante Però mi prendo molto d'accordo Che incroce il vostro sguardo Quindi l'hanno letto davvero e l'hanno sofferto Come è stata la partita con la vita di papà? E' la sua passione I giocatori che hanno portato dire a livello inizio Come è stata la partita con la vita di papà? Come è stata la partita con la vita di papà? Come è stata la partita con la vita di papà? A presto A presto A presto A presto